la rossi facciamo scintille oggi sta affilando una lama cosa fa rossi vuol darsi alla scherma si ma col cappello e la cravatta e no cosa mi fa adesso con la scimitarra vestito da pirata non va bene così rossi ma non da moschettiere e neanche da zorro rossi un po' di serietà ecco così cominciamo a andare bene quasi su in guardia rossi un bel affondo là e il suo avversario era un pollo eh su facciamo le cose serie si metta la maschera ma cosa ha preso una maschera subacquea il pesce spada è velocissimo e lei fa acqua da tutte le parti glielo diamo noi l'avversario eh prova contatti calma rossi un po' di buone maniere la scherma è uno spot gentile si gioca in punta di fioretto e non attestate rossi il giudice potrebbe squalificarla cosa fa rossi rossi le ho detto che zorro non c'entra ma non ci sia lasci il fioretto e prenda la spada così bene perbacco lei con la spada è un campione oi ma chi è quello lì? oh sì si è fatto sostituire da tonino spada questo è sleale rossi così non va bene non va bene affatto lasci perdere la scherma tanto con le lame avrà ugualmente a che fare per tutta la vita grazie